Nuovo stato di agitazione per gli ausiliari ospedalieri di Sassari della Multiservice, proclamato dalle segreterie territoriali di CGL Funzione Pubblica e Will, in attesa dell'incontro con l'azienda ospedaliera universitaria che è stato fissato in seguito alla proclamazione di eventuali azioni di protesta da parte delle organizzazioni sindacali dei dipendenti della Multiservice per giovedì 5 alle ore 11. La protesta dei lavoratori in questa occasione è scaturita a seguito della lettura delle buste paga di marzo, in cui sarebbero stati violati alcuni accordi sulle ore di lavoro, sulle turnazioni e sulla sostituzione del personale, senza alcun preavviso e apparente motivazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!